In Toscana solo il 19% dei giovani considera l'impegno sociale come un valore di nicchia davvero importante. A dirlo sono i dati del rapporto dell'Istituto Yard sulla condizione giovanile sul territorio regionale, un dato che la dice lunga su come i giovani vivono la propria vita all'interno della comunità di appartenenza, sempre più incentrati su loro stessi e sempre meno sui bisogni di coloro che li circondano. Con il progetto La banalità del bene, che ribalta il titolo della celebre opera di Anna Arendt, l'Avad, Associazione Volontari e Assistenza Domiciliare, ha vinto il bando percorsi di innovazione 2013 del CESVOT, il Centro Servizi Volontariato Toscana. Alla base del progetto di Avad e dei suoi partner, il desiderio di avvicinare i giovani alle tematiche del volontariato attraverso la testimonianza di altri giovani e l'utilizzo di un linguaggio moderno ed efficace come quello cinematografico. Di fatto il progetto prevede l'istituzione di un laboratorio, un laboratorio creativo dove i giovani dai 16 ai 25 anni lavoreranno sulla tematica del volontariato, un laboratorio cinematografico dove attraverso le loro emozioni riusciranno a fare un prodotto da porgere con il loro linguaggio ad altri giovani. È un progetto che è nato dal desiderio e della volontà non solo di Avad ma anche degli altri partner del progetto, tra cui anche Tele San Domenico, di avvicinare i giovani alle tematiche di un volontariato particolarmente pesante, perché Avad si occupa di volontariato domiciliare, ma abbiamo tra i partner L'Aima che si occupa di Alzheimer, vivere insieme in Casentino che si occupa di disagio psichiatrico, donne insieme che si occupa della tematica delle donne straniere, della loro integrazione e anche però di donne italiane a volte in disagio. Il progetto partirà a settembre e durerà sino a giugno 2015. Il laboratorio cinematografico si svolgerà negli spazi di Villa Severi, ma sfrutterà anche le location offerte dai partner del progetto, come la ASL 8 di Arezzo e la Misericordia di Subbiano.